In questo numero del Salustigì, l'indagine per il 60% dei giovani, nessun problema se il partner sbircia il telefonino, videospot contro la violenza sulle donne medico, l'alto prezzo dell'effetto nocebo dei farmaci. Dal film Perfetti Sconosciuti alla realtà, il passo è breve, ma con una sorpresa. A bene il 58,9% dei giovani tra i 20 e i 35 anni, non dà particolare fastidio se il partner dà una sbirciatina ai messaggi sullo smartphone. Lo rivela l'indagine Intimità e Sessualità, condotta dalla Federazione Italiana di Sessologia Scientifica. Stesso discorso per quanto riguarda le pagine social. Molto probabilmente è meno un comportamento di una generazione più giovane, questo forse è più tipico di un'altra fascia di vita e quindi diciamo che anche questo però nel momento in cui avviene, viene visto in parte come un po' una violazione della privacy, anche se non si ha niente da nascondere, perché comunque è una questione di rispetto e su questo sono abbastanza d'accordo. Anche se io non ho niente da nascondere, è bene che comunque ci siano dei confini e che vengano rispettati questi confini. Continua la mobilitazione del coordinamento nazionale donne medico della SMI contro la violenza e per la difesa della sanità pubblica, con un appello ai ministri Minniti e Lorenzin che ha già raggiunto oltre 27.000 firme in una settimana e con il lancio di un videospot in solidarietà con i medici vittime di violenza verbale o fisica. Non solo effetto placebo, esiste infatti anche quello nocebo, parola utilizzata per etichettare le reazioni negative manifestate dopo aver preso un farmaco falso e inerte, ma percepito nocivo. Ebbene, sembra proprio che il prezzo giochi un ruolo nell'effetto nocebo. Le persone che assumono un trattamento inerte ritengono di aver sperimentato effetti collaterali avversi più gravi quando il medicinale fasullo è molto costoso. È quanto emerge da uno studio internazionale. Grazie.